Ebbene, è arrivato il coronavirus, che dire, a dire vero non so cosa dire se non le solite cose. Però non so, non è che sembra che serva tanto, perché alla fine ci ricaschiamo sempre, sempre negli stessi meccanismi, inconsciamente forse anche, o forse anche consciamente, però non riusciamo a convincerci che altro modo di pensare, che altro modo di comportarsi, sia una valida alternativa. Ricadiamo sempre, di nuovo, nella paura, nel panico, in quelle idee che dice, sì, vabbè, forse quelle cose che dicono quei pazzoidi lì, cioè il sottoscritto, e non solo io naturalmente, anche tanti altri, secondo cui una malattia ti viene a secondo anche del tuo stato interiore, e di come pensi, e di come ti comporti, e che tipo di sensazioni e emozioni hai in rapporto al tuo comportamento. Sì, lo sappiamo, poi c'è questa cosa dell'effetto placebo, ma sì, lo sanno tutti, no? Però è meglio di no, è meglio lasciar stare, no, no, è meglio rimanere e continuare a seguire la vecchia strada, perché, vabbè, quella è stata anche utile, e che continua ad essere utile, e continua ad essere valida, quella farmacologica, quella chimica, quella materiale, materialistica, scientista, diciamo anche. Il scientismo di per sé non è qualcosa di negativo, diventa negativo quando diventa qualcosa di esclusivo, no? Vabbè, nel dire vero, il scientismo è, per definizione, qualcosa di esclusivo. Il metodo materialista scientifico, voglio dire. Quando diventa esclusivo, cioè scientista, scusate se faccio un po' di confusione, allora sì, diventa qualcosa di negativo. Cioè, giusto prendere precauzioni, lavarsi le mani, giusto, lo faccio anch'io. Starnutire, tossire, eventualmente mettersi la mascherina, io non lo so, lì ho letto cose molto contrastanti, c'è chi dice che non serve a niente, altri che invece dicono, sì, vabbè, lascio agli esperti questo giudizio tecnico, eventualmente comunque anche la mascherina. Però, a parte il fattore paura, no? Meglio di no, meglio stare a casa tutto il giorno, magari, no? Meglio rinchiudersi a riccio. Ma a parte questo, quello che continua a dominare è questo aspetto, l'ho chiamato scientista, questo aspetto riduzionista, determinista, puramente fisicalista. Lì c'è un virus, lo inali, ha determinate reazioni chimiche dentro il tuo corpo, quindi succede per forza così, 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 e da A segue B, è, così è. È come la caduta del grave, no? Hai determinate condizioni iniziali, alle stesse condizioni iniziali, continuerà a cadere sempre nello stesso modo. e tutto alla fine si riduce a neuroni, cellule, genetica, chimica, biochimica, che anche questo non è di per sé sbagliato. Diventa sbagliato quando si pensa in modo esclusivo, cioè quando si cerca la dimostrazione scientifica in termini di atomi, molecole, biochimica, geni, neuroni, allora sì, allora ho capito tutto. Ma cosa abbiamo capito? Cioè, che cosa ci dice un determinato meccanismo neurobiologico, di una determinata malattia, alla fine vedo sempre che la gente allora si sente più tranquilla, no? Magari proviamo ad essere tranquilli senza sapere queste cose. Può servire molto di più. cioè non sempre pensare in quel modo materialista, fisicalista, che se vado fuori non metto la mascherina, passa il virus, succede questo, tutto in questo modo meccanicista, si dice meccanico, meccanico, no? Questo è tutto, la vita, siamo soltanto degli automi, dei robot biologici, e tutto dipende da quello, eh, cosa ci possiamo fare, così, lo dice la scienza. Adesso non mi va di entrare nella polemica se è vero o non è vero, eccetera, eccetera. Dico semplicemente, cerchiamo di non pensare sempre in solo questi termini e quando magari vediamo un cinese che passa per strada, lo salutiamo gentilmente. Perché io immagino che adesso in questi tempi i turisti cinesi che ci sono, non so, mi immagino, non mi è ancora successo, ma se mi succede di trovare un cinese, io lo saluto, voglio proprio fare questo esperimento, salutarlo gentilmente. No, non gli stringerò le mani, magari questo, perché questo è un ragionevole comportamento che i medici, i scienziati ci dicono che in questo momento è meglio di no, va bene, però lo voglio sorridergli e non trattarlo come un appestato. Io mi immagino che i turisti cinesi si vedono fare un vuoto attorno di questi tempi, immagino quelli che stanno a Venezia, non lo so, a Milano, Milano può infigurarsi. questo comportamento, in questo modo, di non avere questa paura del virus, del cinese, di quello che ha il coronavirus, di quello che potrebbe succedere se, allora è meglio di no evitare. Allora andiamo sull'altra parte della strada, lì dove il cinese sta lì, io velocemente vado all'altra parte. Sorridiamo. senza paura, io dico quello, questo modo di comportarsi è molto più potente come antidoto, come vaccino contro il virus, il coronavirus, qualsiasi virus. Nel momento in cui ti rendi conto di queste reazioni del cervello rettile, perché alla fine che cos'è? È il cervello rettile che con il suo meccanismo di che vuole sopravvivere, no? È l'istinto della sopravvivenza che è lì, inevitabilmente, non possiamo farne a meno. È lì, cioè sì, c'è chi arriva a livelli trascendenti e riesce a perfettamente controllarlo e armonizzare anche questa parte del nostro cervello, della nostra mente, che non si sa bene se sia la stessa cosa, ma lasciamo stare questa questione. Non è di per sé qualcosa di sbagliato, ce l'abbiamo tutti questo cervello, ma una cosa è lasciarli libero sfogo, un'altra cosa è riconoscerlo per quello che è, accettarlo, e capire, no, è quello del cervello rettile. Mi fa pensare in quel certo modo, e io, però, capisco anche, c'ho anche un cervello un momentino più evoluto, si spera, a volte ho il dubbio, ma insomma, un momentino più evoluto, ma che capisce ciò che ha un senso nella reazione del cervello rettile e ciò che non lo ha. Ha senso nell'immediato pericolo. Sto guidando in macchina, passa qualcuno, c'è il cervello rettile e subito mi fa frenare il veicolo. E in effetti è un meccanismo strano, provate a pensarci, in quell'istante in cui succede quell'improvviso pericolo, c'è qualcosa dentro di noi che si dissocia dalla mente cosciente e come meccanismo fa tutta una serie di cose perché non avvenga il disastro. E quello ha una sua funzione biologica evolutiva, la sappiamo tutti le solite cose che ci dicono l'evoluzione, i vantaggi evolutivi, la sopravvivenza del più forte, del migliore, non so, non ricordo più come viene definita la cosa, ma comunque vabbè. Ma diventiamo coscienti di questo cervello rettile e diamole il suo posto per le questioni di pericolo, per le situazioni di pericolo immediato, ma no dargli cioè il 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 potere incontrastato che domina tutta la nostra giornata. Ed è quello che mi sembra di vedere in questo momento quando si parla del coronavirus e malattie. che poi se si è delle persone anziane con dei già con delle malattie che si è già in una grave situazione fisica può anche avere ragione una ragione d'essere questa paura ma se sei una persona giovane in perfetto stato di salute a casa sono giovani stanno tutti bene non porti cioè è del tutto immotivata lì è il cervello rettile che domina il nostro modo di pensare la nostra giornata i nostri sentimenti le nostre sensazioni le nostre emozioni ed è lì che la cosa non va allora c'è questa cosa della paura innanzitutto non sempre essere con questo e non state alla radio o alla televisione tutto il giorno sentire anch'io ho incominciato all'inizio anch'io era un po' così mi sono detto ma cos'è questa questa cosa che sta a modo quasi morboso sentirmi tutto il giorno staccare staccare la spina non pensare tutto il giorno perché se no questo ingrandisce nella nostra coscienza nelle nostre sensazioni interiori il problema e se tu lo ingrandisci lo ingrandisci anche nei fatti anche nell'esteriore allora aumenti la probabilità di beccarti magari poi non ti becchi il coronavirus ma una qualsiasi altra cosa che non c'entra assolutamente niente col coronavirus ma perché avevi paura di beccarti qualcosa ti becchi qualcosa e però poi non lo metti più in relazione con il coronavirus perché dice ma io ho fatto il test non c'ho e invece no è proprio perché è tutto un circolo vizioso solo che noi poi spesso non riusciamo più a collegare i puntini e a vedere una visione d'insieme dei principi di causa ed effetto quindi io vado tranquillo a dire vero la mia situazione è ancora relativamente semplice perché vivono in paese isolato ancora qui le cose stanno ancora bene però probabilmente arriverà anche qua e io mi rifiuto di farmi prendere dal panico continuare a fare la mia vita normale perché io poi sono non è mica tanto giovane ma insomma ancora relativamente giovane la mia salute me la sistemo con i miei metodi di autogorrigione e fino adesso è sempre funzionato bene e se mi dovessi prendere la probabilità che ci rimango secco nel caso che sei una persona non troppo anziana e sei in uno stato di salute normale credo sia quasi 0% quindi adesso non mi ricordo i dati esatti ma insomma è estremamente improbabile e quindi non ha senso anche se me la prendo è pazienza mi farò un periodo di influenza forse anche di più una sorta di broncopolmonite naturalmente vai anch'io magari eventualmente andrei in ospedale e chiamo i medici non sto dicendo che io lì a scetta mi autoguarisco a seconda della situazione ogni caso è una situazione a parte però ecco la paura innanzitutto ma non perché non devi far paura agli altri anche per cui hai questa ragione qua nella tua famiglia i tuoi amici tua moglie tuo marito i tuoi bambini le conoscenze sempre star lì a parlare di sta cosa sempre pensare a sta cosa la far rimanere lì più ci pensi e più rimane adesso mi è sparito spero non sia lo screensaver che se ne va e più ci pensi e più ci rimani aggrappato quindi fai la tua vita normale non ci pensare prendi le dovute precauzioni le solite cose che ci dicono lavare le mani bla 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 e poi come dicevo e questo è un aspetto che secondo me bisogna togliere è uno dei problemi più grossi che io vedo quando parlo della gente di autogorrigione eccetera praticamente tutti eh anche quelli più aperti a sta idea che sì l'autogorrigione è possibile sono magari molto spirituali molto no io non sono materialista sono spirituale sembra che però hanno bisogno in qualche modo e vabbè ma questa malattia che cos'è spiega spiega in modo biochimico molecolare cos'è non ci dice nulla una cosa del genere può dire qualcosa a chi deve magari creare dei farmaci con un approccio biochimico e cerca di tagliare determinati processi bloccarli perché per separarli così che da A non segua B ma per quanto riguarda le cause delle malattie questa idea materialista di sapere tutti i meccanismi molecolari cellulari eccetera non non ci dicono granché perché certo io ti posso spiegare perché se il coronavirus entra nel tuo organismo ti fa questo 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 ma perché te lo sei beccato proprio tu e magari l'altro che era vicino a te tutto il giorno non se l'hai beccato questa la scienza non te lo può dire però il tuo intuito sì il tuo intuito ti può dire che se hai sempre paura e se pensi sempre in modo indiretto anche solo inconsciamente pensare inconsciamente sì è possibile ma ha un senso no pensare inconsciamente non ha un senso però inconsciamente credi che va bene inconsciamente credi che è tutta una questione di meccanismi causali puramente materiali fisici questa idea ti indebolisce indebolisce il tuo organismo fisicamente non è soltanto una questione così vabbè un'idea un'opinione no è un'opinione che però ti si ha un'opinione però ti indebolisce di per sé anche fisicamente questo credere che se ti prendi qualcosa è solo dovuto a un meccanismo biomolecolare togliti questa idea di testa e incomincia magari a entrare in questa idea che certe cose ti succedono perché sono il risultato di un determinato atteggiamento interiore di un determinato stato interiore cioè se interiormente stai così te lo becchi il coronavirus e se interiormente stai così magari non te lo becchi o comunque hai minor probabilità di beccarlo che non significa che sei immune significa che minimizzi le probabilità che ti possa succedere una cosa del genere quindi è tutta una questione di mentalità di paura di emozioni sensazioni e non solo sensazioni ma anche di come noi pensiamo quando vediamo un pericolo imminente e tutti siamo sempre d'accordo ma sì lo sappiamo esiste l'effetto placebo esiste la mente ha un potere sul corpo sono tutti d'accordo su questo però quando c'è il pericolo imminente faffette questa cosa sparisce cioè sparisce proprio nel momento del maggior bisogno dove tu hai bisogno di un determinato atteggiamento emotivo e anche mentale di come tutti i rapporti alla malattia quindi io dico per fare la summa summarum niente panico niente paure tieni a bada il cervello rettile e non pensare sempre in termini di quel modo fisicalista che ci suggerisce purtroppo la scienza e la medicina non perché adesso sia colpa sua ma quello è il suo lavoro diventa sbagliato quando noi pensiamo solo in termini in quei termini questo è quello che mi sento di dire su questa questione qui so che non è più di tanto magari la maggior parte non dice molto perché d'altra parte tutto quello che avevo da dire sull'autogorigione l'ho detto ma dato che vedo che c'è questo panico generalizzato sulla questione del coronavirus sentivo di ripetere forse anche certe cose che avevo già detto in tanti altri video e ridiamoci sopra proprio della serie eh vabbè mi becco il coronavirus sarà se sei una persona sana ti farai qualche giorno di malattia a letta l'hai già avuta l'influenza no? della serie e che c'è frega come faceva quel motivo e che c'è frega buono non mi ricordo più c'è una canzoncina cantatela che non significa essere menefreghisti del male degli altri al contrario c'è uno che usa il coronavirus e vacci vai a aiutarlo tiengli compagnia non 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 trattarlo come un appestato perché sai perché sai che se tiri sullo scudo non si fa niente sì lo so tanti diranno ma io comunque adesso non mi è ancora capitato però se c'è qualcuno se c'è qualcuno che verrà isolato in modo ingiusto in modo giusto nel senso che se viene messo in quarantena dai dottori è una cosa ma se viene isolato socialmente io vado lì e lì buongiorno ciao come stai anche questi anche questi rimanere in uno stato altruista anche questo serve protegge non lo so non ci crede nessuno o comunque aumenta aumenta le capacità del sistema immunitario anche questo sarebbe un discorso interessante questo credo che non l'ho mai fatto veramente in che modo l'altruismo che deve essere genuino reale no perché adesso lo fai perché te l'ho detto io allora perché deve esserci una componente disinteressata se lo fai perché credi che così ti immunizzi allora no non funziona così però vabbè non so ecco non ho grandi cose da dire su queste cose qui dovrei perché tutti ne parlano ne parlano però sono sempre le solite cose perché le linee guida quelle che ho sintetizzato nel mio libercolo coscienza e guarigione sono sempre quelle cambia niente è sempre la stessa solfa una volta che hai capito il meccanismo perché anche lì ci sono da capire meccanismi ma non in termini materiali sono in termini come si potrebbe dire neanche in termini emotivi non è la cosa giusta neanche in termini mentali in termini di movimenti di coscienza se fai un determinato movimento di coscienza interiore sembra una paralonima dentro una cosa una volta che hai capito come lo fai è relativamente semplice può capitare che te ne dimentichi nel momento del panico infatti è quello che dicevo prima quando più ne abbiamo bisogno ma io credo che questo coronavirus ci darà una bella lezione ma non nel senso che ne ammazzerà mezza popolazione mondiale credo che ci dicono che sì c'è l'1-2% che è già tanto naturalmente però non credo che sarà quello ci insegnerà forse qualcosa su come pensiamo su come ragioniamo su come connettiamo le nostre paure ai nostri comportamenti e forse chissà ci darà una lezione in senso positivo del termine ci insegnerà qualcosa per un futuro dove magari ci sarà un virus molto peggiore tra l'altro ma lì adesso non vorrei entrare nella questione dell'ecologia del come trattiamo il pianeta degli allevamenti intensivi della deforestazione della caccia della distruzione dell'ambiente eccetera perché quelle cose lì creano queste cose qua io non so come non sono un biologo ma sono sicuro che lì c'è un link ci sono anche delle ricerche che dimostrano no non dimostrano ma ancora non c'è una dimostrazione reale però ci sono delle ricerche che suggeriscono questa cosa che anche come noi trattiamo il nostro pianeta questo ha anche un impatto sulle malattie infettive non soltanto più smog cancro ai polmoni sembra che anche lì questo è anche questo ci dovrebbe dare a pensare ma questo è un discorso più ampio politico forse ma adesso in questo momento non pensiamo a tutto il giorno sta cosa andiamo a divertirci dai va bene ok questo è tutto per ora se ci sono domande commenti o altro potete lasciare un commento giù sotto nella nella parte dei commenti appunto del video buon buona giornata serata nottata e buon tutto e buona salute e se non state bene buona autogorigione ciao